Anche quest'anno il Parco Nazionale della Sila ha organizzato la Summer School in strategie di marketing nelle aree naturali protette. L'innovativo corso, giunto oramai alla sua terza edizione, in questa occasione tratterà dei modi per valorizzare il territorio e comunicare efficacemente. Siamo alla terza edizione, si parlerà di pianificazione strategica e di comunicazione efficace. È uno strumento molto forte, molto importante e efficace per coinvolgere gli stakeholder del territorio, soprattutto i giovani imprenditori, per stare una settimana in aula a parlare di pianificazione strategica e di marketing e quindi per lavorare in network. Si tratta di un'occasione importante per tutti gli operatori locali e non solo, per apprendere gli strumenti di marketing sostenibile e più efficaci e al tempo stesso interagire con docenti e professionisti del settore di altissimo livello provenienti da tutta Europa. Il turismo è un settore in crescita in tutto il mondo. Nel mio paese attuale, che è la Spagna, è una fonte di ricchezza enorme, nella mia città, che è Barcellona ancora di più, però sempre la questione è, è sostenibile o no? Quindi che una regione come la Calabria, concretamente il Parco Nazionale della Sila, cerchi di promuovere e sviluppare questo settore così chiave, importante, da molti punti di vista e lo faccia pensando nella sostenibilità, secondo me è molto, molto, molto accertato e necessario. Per la prossima settimana il Parco Nazionale della Sila si occuperà di formare i professionisti nel settore di domani e l'Orica rappresenterà la punta di diamante delle strategie di marketing dedicate al turismo sostenibile.